PEGI 18 Benvenuto a Chicago, città dalle spalle larghe e dalle grandi ambizioni. In Watch Dogs, Ubisoft ha creato un mondo di gioco coinvolgente e iperconnesso, pieno di opportunità. Tra monumenti e quartieri caratteristici, la città prende vita grazie a un nuovo e potente motore grafico, creato appositamente per Watch Dogs. Una fisica realistica, un'illuminazione dinamica e le condizioni atmosferiche influenzano in modo sempre efficace ogni elemento di gioco. Chicago è una metropoli frenetica, multiculturale e dai mille volti. Watch Dogs ti permette di esplorare la vita nelle strade, popolate da abitanti reali. Chiunque incontrerai, ogni singolo cittadino, ha una propria identità e interagisce con ciò che lo circonda. Tutto e tutti sono connessi. La vita di chiunque è a tua disposizione. I loro telefoni, la loro musica e i loro conti in banca. Individuo è criminale, blocca le comunicazioni nelle strade, sbircia nelle case della gente comune. Dietro a una facciata di normalità, potresti scoprire segreti inconfessabili. In Watch Dogs le opportunità non mancano mai. Potrai controllare una vasta rete digitale. Ma ricorda, a ogni azione corrisponde una reazione. Alla polizia non piacciono i giustizieri e i telegiornali daranno informazioni su di te. Se incontri la persona sbagliata, rischi di diventare un ricercato. E potresti essere costretto a rifugiarti in un angolo buio di Chicago. La città ti sorprenderà. Chiunque può essere una vittima, un assassino o perfino un altro giocatore che si intromette nella tua partita. Connessione vuol dire potere. Usala contro gli altri giocatori online. Chiunque potrebbe essere un nemico, chiunque potrebbe spiarti quando meno te l'aspetti. Watch Dogs offre una gamma infinita di possibilità e ti sfida a osservare, a scoprire e a inventare nuovi modi per connetterti con il mondo. Hai un'intera città a tua disposizione. Ma una domanda sorge spontanea. Cosa te ne farai di tutto questo potere? Cosa te ne farai di tutto questo potere?